Le immagini più belle che ci tenevamo ad avere Lillo Gaspari, non riconosco questo signore Foto Stefano Rossi, Pietro Strada, Colucci Ancelotti, Michele Dalcin Ballotta, non riconosco questi Fotografo Ecco, il punto più alto nella storia della Reggiana O uno dei punti più alti, la promozione Carlo Ancelotti, ritorno in Serie A Eccolo qua Sassuolo Inter Sassuolo Inter Credo almeno Eccolo qua Grazie 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 a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti